E siamo a venerdì, oggi è il 7 settembre 2018, siamo sempre su Ciper TV, siamo sempre a Crossed Bilizio, la casa di Ciper TV e vediamo la classe di oggi che inizia con 5 minuti sul rover. La cadenza dovrebbe essere una cadenza media, quindi né troppo veloce né troppo lenta, semplicemente 5 minuti per far circolare il sangue e aumentare un po' la temperatura. A seguire il Borgner Warm Up che penso tutti conosciati ma che se non ricordate vi invito a rinfrescare guardando su YouTube. Abbiamo a questo punto un complex di pesistica dove dovremo andare a costruire un set molto pesante del seguente complex, un hang power clean, un hang squat clean, un push jerk e uno split jerk. Heavy vuol dire pesanti ma non un RM, quindi quasi al massimo ma non esattamente al massimo delle nostre possibilità. Fatto questo abbiamo un VOD che è composto da, è un VOD for time, che è composto da 800 metri di corsa, 30 calorie raw per gli uomini, 21 per le donne, 25 barfis, 20 clean and jerk dove gli intermediati e gli advanced utilizzeranno 50 kg per gli uomini e 35 per le donne, mentre i beginners useranno 35 kg per gli uomini e 15 kg per le donne. Questo è l'ultimo VOD della settimana, ci rivediamo la settimana prossima sempre qui su Ciper TV, sempre da Crossed Bilizio, seguitici sui social networks, dateci i vostri like, iscrivetevi qua sotto e ci vediamo lunedì. Buon weekend!